buonasera amici della riete ecco ripartiamo di nuovo con gli oroscopi settimanali come vi avevo avevo detto vi anticipo subito che gli oroscopi verranno pubblicati entro stasera o se proprio non faccio in tempo domani domani in giornata o domani sera perfetto allora questa è la settimana che va dal 27 12 2021 al 2 gennaio 2022 per voi a riete passo subito nel dirvi quale sarà la vostra energia che vi accompagnerà per tutta la settimana allora voi state per affrontare qualcosa di nuovo oppure qualcuno eventualmente però col vostro modo innocente di fare con quest'aria ingenua se possiamo dire perché è un vostro modo di fare potreste magari evitare dei possibili problemi e quindi questa diciamo è la vostra è la vostra energia vediamo invece che cosa succede nella settimana e vi aggiungo l'oroscopo non è più breve ma ho fatto il classico oroscopo che è comunque facevo insomma all'inizio vi dico allora cosa accade in questa settimana dal 27 al 2 gennaio allora in questo momento vi sentite un po chiusi per colpa delle influenze negative che avete comunque intorno ci sono intorno a voi tanti pettegolezzi dei malesseri questi pettegolezzi chiaramente vi portano ad avere dei malesseri e questi malesseri questi pettegolezzi sono proprio dovuti all'influenza ok negative esterne ma principalmente alla presenza di una donna che sta chiaramente agendo alle vostre spalle che potrebbe essere o potrebbe scusatemi o potrebbe essere eventualmente una persona troppo gelosa o potrebbe provare troppa gelosia nei vostri confronti è una donna che ha vi do un'indicazione magari potrebbe avere dei capelli castani oppure potrebbe invece la le influenze negative che ci possono essere dove vi vi creano insomma questi malesseri e che la donna che avete magari al vostro fianco prova della gelosia per un'altra persona dai capelli scuri quindi c'è un po un un intrecciarsi di di figure nel vostro nel vostro caso allora se voi siete un uomo del segno dell'ariete potreste invece essere voi gelosi di una donna comunque molto ferma molto decisa anche nel suo modo di pensare e invece se siete donne dell'ariete siete molto schiette e dite comunque le cose in faccia quindi c'è un una gelosia di mezzo qualche influenza negativa dovuta ecco se siete un uomo dovuta una cosa se siete eventualmente donne e siete voi che create insomma questa questo malessere perché dite le cose così belle dirette in faccia poi ci saranno in questa settimana anche degli avvenimenti positivi dovete soltanto attendere e dovete sì dovete attendere perché comunque ecco questi eventi si stanno si stanno formando sono degli eventi positivi comunque in qualsiasi ambito avete anche un desiderio è un desiderio che sapete perfettamente che in raggiungibile e in questo momento vi sentite deboli per raggiungere questa cosa che desiderate tantissimo mentre invece se siete una donna ariete potreste avere interesse per una per una persona in particolare oppure potrebbe esserci al vostro fianco una persona amante amico o il compagno che comunque in realtà è innamorata di di voi è innamorata di voi ma nonostante tutto qualcuno potrebbe tradirvi qui in generale nella rete in generale qualcuno potrebbe tradirvi qualcuno potrebbe fare un'azione nei vostri confronti dove io ripeto sempre ormai lo sapete che il tradimento non è inteso per forza a livello di coppie e quindi si parla di corna potrebbe anche essere un'azione o un qualcosa che viene detta magari alle vostre spalle anche dove vi sentite in quel momento traditi però cercate di andare a capire anche il perché è stata detta una determinata frase o è stato fatto un determinato discorso comunque voi della rete in generale lotterete per degli obiettivi che avete sapete perfettamente che sarà dura però c'è proprio una lotta il consiglio che invece danno i nostri angeli per voi e che potrebbe esserci qualcuno di cui potreste innamorarvi un qualcuno proprio di nuovo per chi chiaramente è single o per chi invece si è lasciato la vostra relazione potrebbe riprendere in generale ok gli angeli dicono che c'è proprio qualcosa di nuovo per voi grazie a tutti quelli che mi seguono chi vedrà per la prima volta questo video invito sempre iscrivervi al canale a spuntare la campanellina e so che sto lavorando tantissimo sulle oroscopie oroscopie annuali presto posterò per voi già l'ho fatto però insomma continuerò a postare anche insomma gli altri ok io vi mando un bacio vi auguro un buon proseguimento di vacanze per chi è in vacanza o buon lavoro per domani buon inizio settimana presto amici del toro buonasera anche per voi e buone feste fatte me ne sono dimenticata di dirlo al segno della riete insomma mi sono ricordata in questo momento per voi insomma ve lo dico buone feste fatte e anche per voi c'è la settimana dal 27 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022 parto subito e poi tutti i ringraziamenti che ci sono e parto subito con le vostre energie di questa settimana quali saranno le energie che vi accompagneranno state ricercando un qualcosa interiormente è una ricerca che state facendo molto lenta ma profonda e una ricerca interiore che vi porta a conoscenza di qualcosa il vostro subconscio il vostro io la vostra spiritualità cioè proprio vi state concentrando dentro voi stessi ed è bellissima questa cosa in amore indica una relazione di successo una relazione comunque duratura una relazione fatta di veri sentimenti quindi oltre che a fare voi un approfondimento se vogliamo così dire interiormente avete anche dall'altro lato un un sentimento che continuate a coltivare continuate comunque a portare avanti qui per chi giustamente in coppia questa è l'energia andiamo però a vedere cosa succede nella settimana che cosa accadrà nella settimana allora qui si parla di una persona tanto legata ai beni materiali dove a volte soffre di solitudine delle volte anche infelice e ha delle difficoltà a gestire dei rapporti interpersonali questa persona può comunque avere dei problemi delle delusioni a livello familiare oppure ci possono essere delle rotture o dei problemi che possono non non essere superabili allora questa persona legata ai beni materiali che potreste magari anche essere voi probabilmente perché forse ci sono delle problematiche magari questa è la settimana in cui avete delle problematiche che già avevate che stanno emergendo e quindi state comunque pensando a come fare per risolvere queste questa situazione e quindi vi focalizzate talmente sulla sfera materiale che andate chiaramente a mettere da parte tutto quello che il resto quindi potrebbe anche essere questo ci sono però per voi in arrivo delle novità ci sono delle nuove strade da da percorrere queste nuove strade vi porteranno comunque a delle delle vittorie e delle possibili comunque entrate economiche celebrerete qualcosa di molto importante di cosa qualcosa di molto bello per voi il celebrare questo qualcosa di molto bello è come l'essere riusciti a ottenere qualcosa il successo interpretato chiaramente in qualsiasi ambito ci sono comunque ecco le novità che insomma sono in arrivo sono comunque in ogni ambito e sono ripeto insomma positive perché ripeto vi portano insomma delle vittorie al vostro fianco c'è un uomo che vi sta ingannando quest'uomo usa la sua posizione il ruolo che ha ok per portare determinate cose a suo vantaggio voi avete ancora tanti dubbi ci sono ancora tante altre decisioni da da prendere e c'è ancora una determinata situazione che non ha ancora la stabilità che voi magari cercate quindi è ancora una situazione magari altalenante e è come se fosse che qualcosa magari sia ancora bloccato ci vuole un altro po per raggiungere ok tutto quello che chiaramente volete poi poi potreste allora qualcuno di voi potrebbe non potreste potrebbe anche avere a che fare con un'avventura fatta di passione oppure avere un rapporto appagante nella sfera passionale quindi per chi magari è single potrebbe avere quella passione che può durare insomma lasciando il tempo che trova può durare quanto insomma dura invece per chi ha dei rapporti comunque ormai stabili trova ripeto trova il proprio rapporto comunque appagante proprio sotto la sfera della della passione nell'ambito passionale comunque voi siete un segno comunque passionale il consiglio che invece danno i nostri angeli in questo momento precisamente il vostro arcangelo gabriele vi dice ci 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 indica la carta del risveglio che cosa vuol significare che bisogna guardare le cose scusatemi da una prospettiva comunque diversa che magari questa settimana ci potrebbe anche essere un punto dal resto ma è un è un punto dal resto è un fermo è un piccolo blocco è un qualcosa comunque di temporaneo l'unica cosa che voi dovete fare è continuare comunque ad essere voi stessi e vi troverete comunque sempre bene quindi diciamo che storto e dritto la settimana a parte questo questo fermo che ci può essere o questa piccola problematica che ci può essere comunque scorre liscia senza senza problemi fatemi sapere attendo comunque sia i vostri i vostri commenti vi mando un bacio e buon inizio settimana per domani e a presto amici dei gemelli buonasera anche per voi l'oroscopo che va dal 27 dicembre al 2 gennaio quindi andiamo a vedere questa settimana andiamo a vedere l'energia che vi accompagnerà per tutta la settimana e allora l'energia ci dice che ci sono delle cose o delle situazioni che vi state comunque dedicando e o che vi siete dedicati che non vi hanno portato assolutamente a nulla non vi hanno portato a un particolare successo e questa settimana dovrete andare a capire che cosa era sbagliato se era l'approccio a l'approccio che avete avuto in determinate situazioni in una determinata situazione ad essere sbagliato e quindi vi state trovando vi troverete o meglio in questa settimana in una situazione di blocco dove nella vostra testa è tutto negativo quello che accadrà durante la settimana indica una persona innamorata che comunque vuole la stabilità vuole consolidare comunque il proprio rapporto può indicare per altri di voi una qualcosa di difficile una situazione di difficile da raggiungere e se siete se siete uomini se siete uomini c'è una situazione difficile ripeto da raggiungere invece se siete donne avete comunque la presenza di uno spasimante o un qualcuno comunque che vi ama e che comunque vi dà vi dà forza e cercate appunto proprio la stabilità il voler coronare il voler consolidare questo questo rapporto ci sono stati dei problemi ok e questa settimana andrete a vedere che insomma ci sarà la fine di queste problematiche la chiusura comunque di un ciclo e quindi si apriranno strade per i momenti positivi per altri invece di voi ci possono anche essere delle comunicazioni che vi possono arrivare che possono essere sempre che possono essere che sono scusatemi sempre positive avete il nove di coppe e il nove di coppe indica proprio l'arrivo di novità positive siete pronti comunque alla conquista siete pronti comunque al a un nuovo amore al al successo insomma a realizzarvi comunque in qualcosa oppure semplicemente queste novità sono delle novità che andranno a chiarire qualcosa oppure sono delle novità che vi faranno scoprire un tradimento che genererà per quindi per altri di voi questo scoprirete un tradimento che genererà per voi del dolore e semplicemente perché non ve lo aspettavate quindi diciamo che il nove di coppe il nove di coppe va a dare delle notizie positive anche qui dove questo qualcosa che venite a sapere vi può provocare comunque del dolore perché perché magari non vi aspettavate questo tradimento ormai un qualcosa comunque che è già successa magari nel venire a sapere determinate cose vi sentirete più alleviati vi sentirete non in colpa per determinate cose poi per altri di voi ci possono essere degli spostamenti degli spostamenti che in futuro comunque saranno saranno favorevoli il consiglio che gli angeli vi danno precisamente l'arcangelo ariel ci dà la carta della forza e la carta della forza vi dice che voi siete forti avete una forza all'interno quindi interiormente vi dovete soltanto liberare da odio da pregiudizi e dovete imparare a perdonare a chi vi ha fatto qualcosa quindi questo è l'oroscopo per voi sono pronta anche per l'oroscopo annuale 2022 che posterò il più in fretta possibile datemi soltanto insomma un po di tempo anche perché ho un cellulare non ho un computer che faccio tutto col computer e non in questo momento ok allora vi ringrazio vi auguro un buon fine settimana e ci sentiamo presto grazie a voi un bacio amici del sagittario buonasera anche per voi il vostro oroscopo settimanale dal 27 12 2021 al 2 gennaio 2022 parto subito nel dirvi le vostre energie che vi accompagneranno in questa settimana avete bisogno di fermarvi un attimo prendere fiato vedere le cose da un'altra prospettiva quindi guardarle in un altro modo non solo nel modo in cui voi siete abituati a vedere determinate situazioni o determinate cose quindi avete bisogno di andare un attimo in pausa vediamo che cosa ci dice la settimana che cosa accadrà nella settimana ci sono ancora dei momenti di confusione di grande difficoltà ci possono essere dei tradimenti da parte di qualcuno magari anche delle discussioni dei litigi ma voi dovete comunque guardare al futuro con attenzione e dovete guardare bene i vostri atteggiamenti le vostre decisioni le decisioni che andrete comunque a prendere gli sforzi che dovete concentrare non sono sforzi fatti sulla vita di tutti i giorni ma sono sforzi che dovete concentrare perché vi serviranno per il vostro futuro ci possono essere questa settimana anche dei problemi dei dispiaceri in campo familiare o lavorativo ci sono comunque in arrivo delle comunicazioni legali o burocratiche nell'eventualità oppure per altri di voi ci possono essere degli eccessi la voglia di strafare di fare delle cose che sinceramente non è neanche il momento poi in compenso a questa situazione magari un po' negativa se così vogliamo dire al vostro fianco avete comunque una figura femminile una donna molto passionale anche gelosa però per voi è un punto di riferimento e per voi di grande importanza e infatti nella vostra relazione il momento comunque è positivo proprio per voi questa persona può indicare vi può dare la una relazione solida comunque una relazione duratura quindi diciamo che nell'ambito relazionale sentimentale i problemi non ce ne sono per chi invece è reduce da discussioni purtroppo per terze persone possono comunque sia ritornare di nuovo a galla e potrebbero esserci per l'ennesima volta delle separazioni diciamo che in linea generica a livello sentimentale ripeto va bene se ci sono stati dei problemi occhio ai problemi che ci sono stati in passato per non portare questi momenti positivi a dover magari diventare negativi perché già non avete comunque una bella settimana ripeto a livello familiare a livello lavorativo e quant'altro quindi cercate di magari e stare attenti almeno nell'ambito sentimentale il consiglio invece che danno gli angeli per voi e che avrete comunque la vostra vittoria riuscirete ad ottenere quello che in questo momento avete in testa o magari un qualcosa che state portando avanti quindi comunque quindi una situazione un'idea un progetto quello che insomma voi sapete meglio nel vostro ambito che cosa state portando avanti e quindi riuscirete ad avere la vostra vittoria e gli angeli dicono anche che ci sono delle buone notizie in arrivo e dei riconoscimenti magari chi lo sa questi riconoscimenti potrebbero anche essere nell'ambito lavorativo io vi mando un bacio buon inizio settimana per domani e ci sentiamo presto e ringrazio tutti quelli che mi seguono un bacio a presto amici del cancro buonasera anche per voi l'oroscopo settimanale dal 27 dicembre al 2 gennaio 2022 vi dico subito quale sarà la vostra energia quindi parto subito con quale energia vi accompagnerà in questa settimana le carte mi parlano di un'energia molto molto forte un qualcosa di positivo che vi farà assaporare delle vittorie che ormai vi eravate prefissate o un qualcosa che desideravate tantissimo si parla di più però qui in ambito lavorativo vediamo invece cosa accadrà durante la settimana allora all'inizio settimana ci possono essere comunque ancora degli ostacoli che vi portate chiaramente dietro voi ormai già lo sapete che di ostacoli ne avete e magari per chi stava divorziando e il problema principale era proprio questo questo divorzio andrà chiaramente a andrà risolversi sta sta situazione cioè l'esito con l'asso di denari e ci sarà comunque gioia ci sarà fortuna quindi si andrà insomma a sistemare questa questa situazione mentre invece per altri di voi c'è proprio un matrimonio un fidanzamento c'è una felicità sotto qualsiasi punto di vista in qualsiasi ambito avete avuto a che fare chiaramente questo non è per tutti avete avuto a che fare con un uomo infedele con una persona bugiarda o meglio scusatemi avete avuto a che fare no avete avete a che fare con una persona di questo di questo stampo allora qui le situazioni sono diverse vi spiego chi ha avuto già a che fare con una persona di questo stampo potrebbe magari adesso godersi il momento dei momento dei flirt momento delle passioni comunque di cose che chiaramente nascono e muoiono all'istante quindi godervi la vita se invece per altri di voi iniziate ad avere a che fare con qualcuno e prima magari non avevate nessuno state attenti perché questa persona potrebbe essere una persona infedele comunque bugiarda in generale qualsiasi problematica ci possa essere questa settimana comunque sia viene tutto risolto dovete però tenere a mente che le vostre energie non spendetele per delle cose inutili perché sinceramente non serve assolutamente a nulla ma tenete le vostre energie belle strette per spenderle in situazioni che si presenteranno più più avanti quindi è giusto che insomma sia sia così poi se c'è una storia dove ci sono delle discussioni dove diciamo siamo arrivati quasi al capolinea e secondo voi è giusto chiudere questa relazione perché ormai vi sentite vi sentite stanchi perché secondo voi non vale più la pena portarli avanti comunque chiudete chiudete perché fa bene soltanto a voi stessi il consiglio invece che gli angeli ci danno o meglio vi danno precisamente l'arcangelo raziel ci dà la carta dell'eremita la carta dell'eremita nelle carte degli angeli indica di passare del tempo in tranquillità magari anche soli a pensare a riflettere avete bisogno di tanta spiritualità e di riscoprire voi stessi quindi questa settimana godetevela per voi stessi fate del bene a voi stessi vi raccomando io vi auguro un buon inizio settimana per domani e ci sentiamo presto un bacio